Hai mai pensato a come una sola persona possa cambiare completamente il mondo della moda? Oggi parleremo di Anna Wintour, la direttrice di Vogue che ha segnato un'epoca e ha rivoluzionato il modo in cui percepiamo la moda. Anna è diventata un simbolo di autorità e creatività nel settore e la sua storia è un viaggio affascinante che merita di essere conosciuto. Nata Il 3 novembre 1949 a Londra Anna ha mostrato fin da giovane una straordinaria passione per la moda. Crescendo in una famiglia con forti legami nel mondo del giornalismo e della moda ha avuto accesso a un ambiente stimolante che ha influenzato la sua carriera. Si è trasferita a New York negli anni Ottanta e ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, lavorando per diverse pubblicazioni. Il suo grande salto è avvenuto quando è diventata direttrice di Vogue, dove ha portato una nuova visione e un nuovo approccio. Sotto la sua guida Vogue è diventato non solo un magazine di moda, ma un punto di riferimento culturale. Anna ha saputo mescolare abilmente il glamour con la sostanza, rendendo le sue pubblicazioni più rilevanti per un pubblico più ampio. La sua capacità di anticipare le tendenze e di scoprire nuovi talenti è stata fondamentale per il successo del magazine. Non solo ha cambiato il modo in cui le riviste di moda vengono fatte, ma ha anche influenzato il modo in cui i designer presentano le loro collezioni. La sua personalità forte e il suo occhio critico l'hanno resa una figura temuta e rispettata nel settore. Anna ha anche sostenuto attivamente la diversità nella moda, promuovendo modelli e designer provenienti da background diversi, contribuendo a creare un'industria più inclusiva. Ma la carriera di Anna Wintour non si limita solo alla moda. È anche una filantropa attiva, sostenendo numerosi progetti e iniziative benefiche. Il suo impegno sociale riflette la sua convinzione che la moda possa essere un mezzo per creare cambiamenti significativi nel mondo. Quindi, se vuoi rimanere aggiornato sulle storie di persone che hanno lasciato il segno nel mondo, iscriviti al canale Mindset Vincente. Lascia un like se trovi interessanti questi argomenti, perché il tuo supporto è importante per far crescere la nostra community e per continuare a portarti contenuti di valore. Grazie per aver guardato questo video su Anna Wintour. La sua storia è un esempio di come la passione e la determinazione possano portare al successo. Non dimenticare di iscriverti al canale e ci vediamo nel prossimo video!